C'è anche il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, candidato sindaco nella città turrittana per il centrodestra, tra i cinque nuovi indagati dell'inchiesta a Montenuovo, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Cagliari, che a settembre aveva portato i carabinieri da Rossa ad eseguire 31 misure di custodia cautelare, 13 dalle quali in carcere, tra gli arrestati Gabriella Murgia, ex assessora regionale dell'agricoltura, e il primario Tommaso Cocco. Per la DDA, gli indagati farebbero parte a vario titolo di un'associazione per delinquere che operava in tutta la Sardegna e che univa elementi della criminalità sarda con rappresentanti delle istituzioni. Agli indagati, il pubblico ministero Emanuele Secci contesta una serie di reati, dal peculato all'abuso d'ufficio, alla corruzione e al traffico di stupefacenti. Il PM ha confermato, nonostante quanto deciso dal Tribunale del Reesame, la contestazione dell'associazione mafiosa e segreta.